La faccia di tre step, va bene? No, tu la vedi, ma non c'è, sapete proprio dove. Devo farla, singolo al meglio, perché ci serve più per la posa. Ma non c'è, 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 non c'è. Ok, va, ci sarà un cosa scritta, stagione di gacci, a me. Non lo fa, non pulire, non lo fa, 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 non lo fa. E qual è un problema? Ok, Sonia. Sonia, vi doma, posso? Ho fatto un po' più, faccio un po' lì di distattaccare tu. ok a bunch of them you got you